Pronto? Qualcosa non va? Sto ricordando delle cose che non sono mai successe. Io continuo a svegliarmi in posti diversi. Tutto è diverso, tranne te. Se non mi ascolterai, ti uccideranno. Di che stai parlando? Quando l'orologio si ferma, loro arrivano. Ian! Sei in pericolo! Corri! Deve ricordare. Preparare. Non volto. Non volto. Ecco. Non volto. Grazie.